Il Vice Presidente dell'Assemblea regionale, Nino Boeti, ha presieduto l'insediamento del Comitato Resistenza e Costituzione per la decima legislatura. Istituito nel 1976 per conservare e valorizzare la memoria della Resistenza e promuovere la conoscenza della Costituzione repubblicana, il Comitato è composto da rappresentanti di associazioni antifasciste e combattentistiche, istituti storici della Resistenza, istituzioni culturali, sindacali, politiche e degli enti locali. Abbiamo ricostituito oggi il Comitato per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione. Mi onoro di essere Presidente di questo Comitato in qualità di Vice Presidente del Consiglio regionale e mi riprometto di svolgere assieme ai componenti del Comitato un lavoro degno dei 70 anni che ci aspettano dalla liberazione. Sono molte le iniziative e i progetti ai quali lavoreremo, oggi è l'occasione per tracciarne il profilo e per cominciare a lavorare.